Sutta, noi siamo rossi, sutta, sutta. Sutta, noi siamo rossi, 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 sutta, noi siamo rossi, sutta. La lettura è fondamentale, perché apre la mente. Se sei in crisi, in un libro puoi trovare sempre qualche risposta. Può comunque aiutarti a ricominciare, può aiutarti a trovare un sorriso, può aiutarti a ricominciare, magari se hai avuto un momento di stop. Io la lettura la intendo sempre in questo modo, per il mio lavoro, in particolare io faccio teatro, la lettura è uno stimolo continuo per trovare nuove idee, per gli spettacoli, per le cose che scrivo. Quale personaggio di un libro vorresti essere se ne avessi la possibilità? Oh, questo è veramente difficile. Guarda, c'è un libro a cui sono molto legato, non me lo ricordo adesso il nome preciso di uno dei protagonisti, è un libro dove ci sono diversi protagonisti, il libro si chiama Generazione X, è un libro uscito nei primissimi anni 90 in Italia, forse in America era uscito nell'89 negli Stati Uniti, di un autore che si chiama Douglas Kaplan ed è un libro dove i protagonisti continuano a raccontarsi storie l'uno con l'altro. E quindi è qualcosa che ha anche molto a che fare con il teatro, con l'idea di comunque continuare a raccontare il mondo, continuare a raccontare se stessi, quindi forse è un personaggio di Generazione X. Ci puoi fare una top 5 dei tuoi libri preferiti? E questo è ancora più difficile. E allora, Generazione X ce lo mettiamo perché l'ho già citato, poi c'è un libro che si chiama Baburu ed è un libro che parla del Giappone, è un posto dove io non sono mai stato, ma spero prima o poi di poterci andare. E invece è un altro libro che ho letto di recente, che mi è piaciuto tantissimo. Oh mamma, però in questo momento il titolo è veramente difficile da ritrovare nella mia testa, pensa a quanto mi è piaciuto quindi. E' difficile questa domanda, poi tu taglia ovviamente. Vediamo un po'. Ci devo pensare, me lo potevi dire prima? Oh mamma. No, Harry Potter non l'ho mai letto. Mia figlia sì, mia figlia l'ha letto tutti. Adesso ci stiamo rivedendo i film. E no, sono davvero in crisi, eh. Ah, allora, di Pennac sicuramente il Paradiso degli Orchi, che è il primo della saga del signor Malusen. Poi mi piace tantissimo l'amleto di Shakespeare, su cui ho anche avuto modo di lavorare. Ne ho detti quindi tre, quattro. Ne ho detti quattro, quindi ne devo trovare un quinto. Un libro che mi piace un sacco, tanto, 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 e che rileggo spesso, è Le città invisibili di Italo Calvino. Ce l'ho fatta? Tu racconti le fiabbe della buonanotte ai tuoi figli, pensi che sia importante? Diciamo che no, non è importante, però è una cosa che paradossalmente, insomma, almeno con la prima figlia un po' l'ho fatto. Con il figlio più piccolo, invece, non mi capita, perché lui non ama molto ascoltare le fiabbe raccontate. Lui se le... tipo, gli piace sfogliare i libri, eh, però non... si secca. Insomma, se io comincio a leggere una cosa, dici, no, basta, papà, basta, o forse non sono abbastanza bravo. Va bene? Sì, grazie per averci concesso questo video. Dopo questa intervista, il mondo smetterà di leggere. No. Penso che sia importante leggere, perché? Beh, penso che sia importante se per una persona ha un valore la lettura al di là del passatempo, nel senso che è sicuramente un ottimo passatempo, però si leggono tante cose oggi, non è che si leggono solo libri. Quindi una lettura può essere intesa come lettura testuale, come lettura anche degli avvenimenti, degli eventi, delle informazioni che ci giungono ogni giorno addosso. Il libro, come ho detto prima nell'intervento, per me, perché sono più anziano di voi, conserva un certo valore anche dal punto di vista proprio tattile, no? Di avere un oggetto e di poter lasciare a chi legge uno spazio. Io parlo sempre di spazio, nel senso l'idea che quando leggi un libro puoi crearti tu il tuo mondo intorno a quello che stai leggendo. E quindi che stimola in qualche modo la creatività rispetto ad altri tipi di media. che io per esempio sono appassionato di serie televisive, mi piacciono molto le ultime che ho visto, tipo Breaking Bad, Black Mirror, sono secondo me paragonabili a romanzi, però hanno questa cosa che ti dicono già tutto. Nel libro questo invece viene lasciato uno spazio al lettore, che secondo me è importante per formarsi una propria individualità e creatività. Quale personaggio di un libro vorresti essere se ne avessi la possibilità? Vorrei essere Moscarda di Uno o Nessuno e Centomila di Pirandello, un personaggio che ho sempre apprezzato perché è un libro che mi ha cambiato il modo di percepire la vita, la mia esistenza e me stesso, quindi lo consiglio vivamente. Quindi lei pensa che sia importante la lettura dei classici? La lettura dei classici sicuramente innanzitutto ti dà un orientamento, nel senso che sono così tanti libri, non so se a voi è mai capitato di pensare, no? Ma da quale comincio? Per me è sempre stata un po' la cosa che mi ha messo ansia, no? Da quale libro comincio? Allora i classici sono già una guida perché sai che appunto se sono classici un motivo ci sarà. E allora leggere Moby Dick o leggere I Demoni o leggere appunto Uno o Nessuno e Centomila, insomma ti dà la possibilità di orientarti e poi magari col tempo affinare il gusto riuscire a capire anche fra le cose nuove che ancora classiche non sono, quali sono le cose più importanti, perché penso che il classico sia importante perché è immortale, parla di tutti i tempi, no? Non solo del tempo attuale. Alcune cose tipo Foster Wallace per esempio mi piace perché parla del mio tempo, della mia generazione, quindi magari sarà un classico, non lo so, però è importante muoversi fra queste due linee. non so cosa ho detto ma l'ho detto bene, tanto tu non mi hai seguito, eri emozionata dalla lettura della domanda. Da bambini i tuoi genitori ti hanno mai letto La Fiamma della Buonanotte? E purtroppo sono orfano, sono nato orfano e quindi... No sto scherzando! Siete morte, di verità! Sì sì, me ne hanno lette sin troppe, mia madre è soprattutto una persona che non solo le leggeva ma le inventava e quindi è il ricordo più bello che ho. Poi quando loro hanno smesso di leggermene perché ero abbastanza grande e loro si erano annoiati, sono le fiabbe italiane di Italo Calvino che sono bellissime per esempio. Le farei leggere perché sono un esempio di scrittura e anche di rilettura della tradizione, molto bello. Che cosa significa per te crescere al sud? Ma in realtà ha un significato duplice. Da una parte c'è il fatto che il sud ti dà un'idea di dimensione umana che ancora io trovo mantiene la struttura dell'essere umano. Io sono cresciuto in un piccolo paese che penso sia la dimensione giusta per non essere stressato come bambino, come ragazzo. E allo stesso tempo a un certo punto il paese ti va stretto e il sud ti dà anche quella fame giusta per poter desiderare altro, per poter dire vediamo cosa c'è nel mondo oltre a questo mondo. Quindi lo trovo giusto fino a un certo punto e poi però non deve diventare l'unico luogo della propria vita. Grazie per averci contato. Grazie, ciao. Ti piace leggere? Sì, è un'attività che comunque mi appassiona. Qual è stato il libro che ti ha colpito di più e perché? Io leggo principalmente romanzi, quindi il libro che mi ha piaciuto di più è stato Oliver Twist, un libro di questo ragazzo che con le sue avventure riesce comunque a entrare nel lettore. Perché? Perché a me appassionano soprattutto le avventure di questi ragazzi, le avventure dei ragazzi principalmente. Che cosa significa per te crescere al sud? Per me crescere al sud significa crescere e vivere in una realtà diversa, in una realtà più dura, con maggiore difficoltà rispetto ad altre realtà. Va bene, grazie. Prego. Vai. Ti piace leggere? Certo. Che genere di libri ti piace? Ultimamente sto leggendo libri come Orwell, genere utopistico. Che cosa significa per te crescere comunque al sud? Crescere al sud è un'esperienza diversa, soprattutto per me che non sono originario del sud, però ho imparato, diciamo, le abitudini di questa terra. Va bene, grazie. Mi sembra che abbiano bisogno di idee che vengono da voi e non il contrario. Ti piace leggere? Beh sì, io amo leggere. Amo leggere non solo perché la lettura apre la mente, ma amo leggere perché leggere è vita. Leggere vuol dire vivere diverse realtà e chi si abbandona a vivere soltanto la sua vita, la sua mera vita, direi, non è un uomo. Pensi che sia importante la lettura dei classici e perché? Sì, beh, leggere i classici per me è importantissimo, importantissimo perché ti fa conoscere delle realtà che non sono soltanto le tue. Ti fa l'impianto dottrinario, l'impianto didascalico dei classici è un impianto che oggi non avremo più, quindi secondo me leggere i classici è davvero fondamentale per capire il funzionamento delle generazioni passate, ma anche per apprendere e poter riprodurre nella nostra generazione che ormai non è più come quelle di una volta perché possiamo capire che l'evoluzione tecnologica ci ha un po' sviato da quelli che erano i valori che erano diffusi un tempo, quindi secondo me leggere i classici è davvero fondamentale per poter vivere bene oggi. Che cosa significa per te crescere al sud? Crescere al sud? Direi che per me crescere vuol dire apprendere, fare un percorso, svolgere un percorso che poi va al di là del luogo in cui si vive, perché crescere al sud è sì una realtà che può sembrare difficile, ma crescere al sud è crescere, cioè non direi nulla di più, nulla di meno che vivere come vivono quelli del nord o certo magari ci può essere qualcosa che può, per esempio io parlerei dei problemi a livello mafioso oppure dei problemi che possono riguardare il dissesto idrogeologico del sud, ma poi si davvero entra in un ambito, in un circuito che sarebbe vizioso, quindi crescere al sud per me è vivere. Grazie mille. Sì, mi piace molto perché occupa i miei tempi liberi, perché quando non si sta fuori, si sta con gli amici e si sta dentro, non si ha nulla da fare, leggere è molto importante perché chi legge comunque sa più parole, ha una visione diversa del mondo e comunque si ripresenta come un cittadino colto davanti a questa realtà difficile. Qual è stato il libro che ti ha colpito di più e perché? Ultimamente sto leggendo le saghe di Rick Riordan che parlano della Grecia, dei latini, degli egiziani per quanto riguarda le divinità, quindi qualcosa di antico, mi appassionano molto perché sono anche avventurosi e quindi colmano sia l'aspetto interessante che anche quello divertente. Che cosa significa per te crescere al sud? Ma crescere al sud è una realtà certamente diversa e più difficile rispetto a quelle di chi cresce al nord perché chi cresce al sud sa cosa vuol dire i sacrifici e alzarsi la mattina presto perché magari non ha tutti i servizi che hanno le persone al nord. Noi siamo sempre stati visti come l'ultima ruota del carro, anche se bisogna dire che la maggior parte dei coloro che sono al nord sono anche formati da noi del sud che siamo emigrati là internamente alla nostra regione, quindi diciamo che loro fanno tanto i gradassi ma alla fine noi siamo parte di loro. Va bene, grazie. Ti piace leggere? Sì. Qual è la tua febba preferita? Geronimo Stilton. Quale personaggio di un libro vorresti essere se ne avessi la possibilità? Beh, un po' tutti perché io leggo tanto e mi piace essere molti personaggi. Quali sono i cinque libri che ti piacciono di più? Vabbè, Geronimo Stilton, la storia di una matita, il piccolo principe, la storia di un gatto e un topo che diventarono amici, col un bambino venuto dal mare. Dove preferisci leggere? In compagnia o da sola? Da sola. Va bene, grazie. Ti piace leggere? Sì, tanto. Quali sono i cinque libri che ti piacciono di più? Geronimo Stilton, la storia di una matita e poi altri libri. Se tu potessi avere la possibilità, quale personaggio di un libro vorresti essere? Geronimo Stilton. Da bambina tuoi genitori ti hanno mai letto la favola della buona tese? Mai, mai. A te sarebbe piaciuto? Sì. Preferisci leggere da sola oppure in compagnia con gli amici? Ehm, in compagnia. Bene, grazie. Il mio preferito è di Geronimo Stilton. Ti piace leggere? Sì. Quali sono i libri che ti piacciono di più? Allora, Maga Martina, poi i libri dell'Ethea Sister e questi due sono i miei preferiti. E il tuo genere di libro preferito? Ehm, di avventura e magia. Se tu avessi la possibilità, quale personaggio di un libro vorresti essere? Maga Martina. Quando eri più piccolo i tuoi genitori ti leggevano la fiabba della buona notte? Cioè, più che leggere mia mamma se le inventava le fiabbe. A te piace inventare le fiabbe? Sì. Va bene, grazie. Prego. I tuoi genitori ti hanno mai letto la fiabba della buona notte? Ti piace leggere? Sì, tantissimo. Qual è il tuo libro preferito? Il mio libro preferito è Maga Martina. E qual è il genere di libro che ti piace di più? Avventura, fantasia e magia. In quale personaggio di un libro ti immedesimi di più? Maga Martina. Quando eri più piccolo i tuoi genitori ti hanno mai letto la fiabba della buona notte? No. Preferisci leggere in compagnia, con i tuoi amici, a scuola oppure da sola nel tuo tempo libero? Da sola. Ah, ciao mamma. Quale penso sia il suo impegno nel sociale più importante? Adesso, in questo momento da sindaco, devo dire che abbiamo realizzato molte opere che riguardano l'accessibilità della città. Per esempio, rendendo i marciapiedi accessibili per le persone con disabilità, per i non vedenti. Abbiamo dato anche molte case a persone che avevano difficoltà, quindi ancora molte mancano. Stiamo lavorando all'assistenza per le persone con disabilità, sia per il trasporto che per l'assistenza domiciliare. E anche per l'assistenza agli anziani domiciliari. Tutte questioni che riguardano il welfare che il Comune di Cosenza ha mantenuto, pur avendo avuto numerosi tagli dei trasferimenti di risorse statali, che incitano ovviamente sul bilancio corrente. Che significa per lei crescere al sud? Significa soprattutto capire che ci sono delle difficoltà strutturali che sono proprie e insite nel nostro territorio. Capire che è necessario attuare un cambiamento anche nelle politiche di sviluppo del territorio, che devono riguardare processi di investimento, un obiettivo anche di pratica delle best pratiche che ormai sono consolidate in tutto il mondo più civile, in Europa, anche rispetto a situazioni che invece qui sono ancora poco sviluppate. Si ritiene soddisfatto del lavoro delle scuole cosentine? Ritiene che ci sia un buon rapporto con i giovani? Sì, sono molto soddisfatto del rapporto con gli studenti. Anche all'interno delle scuole abbiamo più volte importato delle pratiche che sono state sempre bene accolte. Per esempio quella sulla raccolta differenziata, su attività che sono state intraprese anche sul tema della legalità e della giustizia, insomma tutte pratiche che gli studenti hanno recepito molto bene e che anzi sono portatori di questi interessi all'interno delle famiglie e della società e della comunità cosentina. Cosa ne pensa di questa iniziativa? È un'iniziativa molto importante perché, come tutte quelle che si rivolgono agli studenti, ai giovani, ai ragazzi che sono anche all'interno delle scuole, aiutano a formare la coscienza civica dei cittadini del futuro. E quindi sostanzialmente aiutano anche la comunità a sviluppare quell'interesse sulle buone pratiche, quell'interesse che ci deve essere su tutti i processi sostenibili di crescita della città e di gestione di tutte le attività pubbliche. La ringrazio per averci concesso questo intervisto. Un saluto a tutti. Ti piace leggere? Sì, leggere è sempre stata una passione che ho coltivato sin da piccola e che per fortuna continuo a vivere ancora oggi, anche se purtroppo per mancanza di tempo non posso avere la possibilità di leggere con frequenza. Quale personaggio di un libro vorresti essere se ne avessi la possibilità e perché? Allora, non credo di potermi immedesimare proprio in un unico personaggio. Ci sono più storie che mi hanno sempre interessata, nelle quali comunque riesco a ritrovarmi, ma non per forza un personaggio, direi più un'ambientazione o comunque una situazione in cui mi rivado. Che genere di libri ti piace leggere? Solitamente romanzi. Diciamo, preferisco i romanzi della Gamberale, infatti ne ho letto quasi tutti i suoi libri. Cosa significa per te crescere al sud? Allora, in questo momento credo che crescere al sud implichi certamente delle differenze rispetto a vivere la propria vita in un altro paese, in Italia. Nel senso che i ragazzi sono, probabilmente, non credo che siano impiediti da qualcosa. Cioè, vivere nel sud Italia non gli impedisce di avere una vita felice e serena. Nel senso che, perlomeno per quanto riguarda la mia esperienza personale, per il momento non ho avuto mai tanti problemi. Però credo che certamente ci debba essere qualcosa che migliori la nostra situazione, anche dal punto di vista culturale. Ok, grazie. Ti piace leggere? No. Perché non leggi? Perché mi annoia. Quali tipi di media preferisci, invece? Televisione, non lo so qualcosa del genere. Nessuna. Eh, è bello. Cosa significa per te crescere al sud? Grazie. Ti piace leggere? No. Perché non leggi? Perché mi secca. Quale tipo di media preferisci? Come? Non lo so, magari la televisione, il giornale? Non mi hanno per me queste cose. Cosa fai invece nel tuo tempo libero? Esco, vado a ballare, mi vado a fare bella. Che cosa vuol dire per te crescere al sud? Che cosa vuol dire? Un po'. Vuol dire che... Apri il microfono! Che cosa vuol dire? Non lo so. Grazie per questa intervista. Arrivederci. Ti piace leggere? Sì. Quali sono i cinque libri che ti piacciono di più? Allora, La casa sopra i portici, Le prime luci del mattino... Insomma, sono dimenticato. Bordello, amici! No, aspetta, dai. Allora, questo è più forte. Ci riuscire al mattino, Fai dei bei sogni. No, sentite, sono il quinto libro, che è questo. Ce ne ho letti tanti. Dici il terzo e il quarto. Ok, allora, Bianca come il latte, Rossa come il sanque. Il quarto è Fai dei bei sogni. Il quinto è solo il secondo giusto se, se Steve Jobs fosse una da Napoli o l'altro. Quello che abbiamo letto pure. Te lo ricordi? Che cosa significa per te crescere al sud? Pasta, china e parmigiana a bigna. Ti piace leggere? Molto, sì. Perché pensi sia così importante? Perché leggere mi ha permesso di viaggiare, restando ferma. Leggere ti permette di andare in tanti posti e di essere tante persone, anche stando a casa tua. Quale personaggio di un libro vorresti essere se ne avessi la possibilità e perché? Joe di piccole donne. Pensi che sia importante la lettura dei classici e perché? Penso che sia molto importante, anche un po' per deformazione professionale. Penso che sia molto importante esattamente per il motivo che diceva Calvino, perché un classico non smette mai di dirti quello che ha da dirti anche dopo molti e molti anni e quindi li rivela la sua grandezza che sta nella sua attualità. Qual è la tua fiabba preferita? Ah, bella domanda. Ansel e Gretel. Perché proprio Ansel e Gretel? Perché c'è questa storia di abbandono agli etofine. Mi piace molto come loro due vengono fuori soli soletti da tutti questi pericoli. Che cosa significa per te crescere al sud? Crescere al sud è molto faticoso. A un certo punto diventa anche una scelta perché c'è un momento in cui si può scegliere di andare via dal sud. E se si sceglie invece di rimanere e di continuare a crescere al sud è un bell'impegno. E' faticoso come è faticoso crescere ovunque, qui un po' di più, però ci si può attrezzare per esempio con i libri, per essere liberi nella testa, ovunque, al sud e dappertutto. Grazie a voi. Ti piace leggere? Sì, molto. Qual è la tua fiabba preferita? Mi piacciono molti i libri di Geronimo Stilton. E che genere di libri ti piace oltre a quelli di Geronimo Stilton? Quelli di Nazioni e Giallo. E il personaggio di un libro in cui ti immedesimi qual è? Non lo so, Sherlock Holmes. Va bene, grazie. Ti piace leggere? Sì, un sacco. Quale personaggio di un libro vorresti essere? Vorrei essere la rosa del Piccolo Principe. Piccolo Principe è il tuo libro preferito? Sì. E altri che ti piacciono quali sono? Mi piacciono quelli delle Thea Sister, oppure quelli di Luis Sepulveda e leggo anche quelli di Gianni Rodari. Quando eri più piccolo e i tuoi genitori ti leggiavano le fiambe nella buona notte? Sì, spesso. Lo fanno ancora ora? No. Dove ti piace leggere? Mi piace leggere in camera o in spiaggia, in qualsiasi posto. Da sola o preferisci essere in compagnia? Preferisco da sola. Va bene, grazie. Ti piace leggere? Sì, principalmente come attività di svago, diciamo, nel tempo libero. Che genere di libri ti piace leggere? Diciamo più che altro romanzi, anche perché quando leggo di solito sono abbastanza tranquillo, comunque ho tempo da dedicarci, per cui mi piace qualcosa che mi appassioni o comunque che mi tenga abbastanza interessato. Quali sono i cinque libri che ti sono piaciuti di più? Principalmente, diciamo, alcuni di Ravenia, come Bianca come Latters, come Il Sangue, e poi ho letto altri titoli, adesso non ricordo bene i nomi. Comunque mi piace con lui come autore, poi non ti saprei dire come titoli. Cosa significa per te crescere al sud? Beh, secondo me, in questo momento, crescere al sud è quasi uno svantaggio, direi, perché credo che la capacità e la formazione scolastica che viene data a noi del sud sia leggermente inferiore a chi vive al nord. Conosco anche amici che hanno conseguito gli studi lì e che, diciamo, hanno una formazione migliore o comunque riescono ad apprendere meglio. Però credo che sia anche grazie a, diciamo, cose come queste, che si può crescere al sud, che si può crescere la nostra capacità di apprendere e i nostri mezzi, diciamo. Ti piace leggere? Sì. Perché pensi che sia così importante? È importante perché, oltre ad ampliare il bagaglio culturale, amplia anche quello lessicale, ovviamente, e in più insegna ad immaginare le cose, a vedere un altro lato di qualsiasi cosa, no? Insegna a vedere le cose da un punto di vista diverso. Da bambina i tuoi genitori ti hanno mai raccontato la fibra della buonanotte? No, me la leggevo sola. Qual è la tua preferita? La fibra della bella addormentata. Cosa significa per te crescere al sud? Crescere al sud per me non è un'esperienza particolarmente bella. Diciamo che ho fatto molti viaggi e mi piacciono le realtà diverse. La realtà che c'è qua non la preferisco. Grazie. Ti piace leggere? Sesso. Ti piace leggere? Allora, prima non mi piaceva, però andando alle scuole, a liceo, ho cominciato a leggere qualche libro grazie a una professoressa, e dire che mi è piaciuto, mi è cominciato a leggere. Cioè, mi è piaciuto leggere. Che genere di libri ti piace leggere? Quel libro che mi danno leggo, cioè. Non vai in genere di libri? No, cioè più o meno i romanzi e le cose paurosi. I libri paurosi. Horror, thriller. Da bambino, i tuoi genitori ti hanno mai letto la fiabba della buonanotte? Nonna, non i miei genitori. Nonna, sì, tipo Capuggetto Rosso, oppure Biancaneve, oppure... Tante favole, sì. Qual è la tua preferita fra tutte queste? Biancaneve. Che cosa vuol dire per te crescere al sud? Allora, crescere al sud significa crescere col sole, perché il sud è una delle... è una dei... cioè, è proprio... è la nominata come... cioè, è la ragione che c'è il sole, cioè, più o meno. e poi crescere al sud, in gergo, Spaghetta Aglieu, voglio. E... significa... no, crescere al sud, andare al mare, cioè... secondo me il sud è una delle regioni... una delle regioni... cioè, è la parte d'Italia, diciamo, più felice, perché, secondo me, il sud... già, il sud... ogni persona che ci arriva, come dicevo in un film, piange quando arriva e piange quando torna. Grazie. Prego. Ti piace leggere? Sì, tantissimo. Quale personaggio di un libro vorresti essere, se ne avresti la possibilità? Un po' tutti, perché... io leggo molti libri, quindi non ne ho uno in particolare. Qual è il libro che ti piace di più? Il libro che mi piace di più... è quello... di Storia di una matita, di Michele D'Ignazio. I tuoi genitori te le leggono le favole della Buonanotte? No. Ti piacerebbe invece che lo facessero? No, perché ormai sono grande, invece quando ero piccola sì, mi piacevano molto. Va bene, grazie. Brava. Ti piace leggere? Sì, mi piace leggere. Qual è il tuo libro preferito? Il mio libro preferito è... è di Geronimo Stilton. E se tu potessi avere la possibilità, quale personaggio di un libro vorresti essere? Geronimo Stilton. Preferisci leggere da solo o con gli amici, in compagnia? No, preferisco leggere da solo o ad alta voce. Quando eri più piccolo, i tuoi genitori ti hanno mai letto la favola della Buonanotte? Sì. E a te piaceva? Sì. Va bene, grazie. Grazie. Ti piace leggere? No. Perché non ti piace? Perché non ho tempo, cioè non... cioè dico... e non mi interessano i libri. E invece cosa fai nel tuo tempo libero? Vabbè, studio e esco. Cosa significa per te crescere al sud? Non saprei. Sì. 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 Grazie a tutti